Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi andremo a vedere un piccolo video veloce per trasformare i file VUX in file VUD e da lì metterli in ISO in modo da portarli poi sulla nostra Wii U. Andiamo a vedere. Bene, allora io ho un gioco che è Steam World Collection. Ho preso questo qua che è abbastanza piccolino e facciamo prima. Allora, come vedete questo file è in VUX, ok? Noi cosa facciamo? Lo prendiamo, lo estraiamo dal zip, vi ricordo che per estrarre le cose dalle cartelle compresse appunto ci vuole 7zip o Winrar e abbiamo il nostro gioco che è questo qui. Poi cosa facciamo? Ci vuole questo programmino che è VUD Compress, lo possiamo trovare qua, ok? Andiamo, vi lascio il link in descrizione, andiamo su Download Mirror, il secondo va benissimo, e troviamo appunto da scaricare. Fate scarica e lo avrete poi, ok? Sulla vostra cartella di download. Una volta che l'abbiamo scaricato avremo questo file sempre zippato, sempre con 7zip o Winrar, andremo ad estrarci la cartella VUD Compress, la mettiamo qui sul desktop, andiamo ad aprire la cartella VUD Compress appunto e avremo questi due file. Cosa facciamo? Noi mettiamo il gioco che vogliamo trasformare da VUX in VUD, ok? Da qui noi cosa facciamo? Facciamo altro che prendere questo file, metterlo su VUD Compress, che è il file eseguibile, e si aprirà il prompt dei decomandi di Windows e farà tutto da solo. Guardate, ok? Ecco qua, è partito la decompressione, ok? Come vedete che sta già generando il file VUX, quindi ora attendiamo noi la fine del processo. Bene, come avete visto ha fatto anche il controllo degli errori. Una volta che ha generato il file, piccola curiosità, il file originale in VUX era di 1,51 GB, vedete qua nelle proprietà. Quello che andremo a generare, che è VUD, sarà molto più grande, 23 GB, quindi calcolate anche questo divario che ci potrà essere di spazio, ok? Ho fatto molto presto a generare 23 GB, però comunque poi dovete avere lo spazio per appunto mettere il file. Ok, allora, cosa facciamo? Ora io per comodità lo copio qui, ok? Me lo copio qua, per avere un file VUD, ma voi non dovete fare questa cosa. Ok, una volta finito il processo, noi non facciamo altro che andare qua, abilitate la visibilità dell'estensione, che voi dovete semplicemente andare qui su visualizza, estensioni, nomi file, eccolo qua. Con questo qui voi andate a vedere, prendete e andate a vedere appunto il punto, eccolo qua, vedete che questo è il punto XE, questo qua sarà il punto VUD, ok? Voi cosa fate? Andate qui, il punto VUD, andate a toglierlo e mettete ISO. Se vi apparirà questo, diciamo, avviso, avete fatto la cosa giusta, ovvero state modificando l'estensione del file. Voi date di sì e come vedete cambierà anche per me, perché è associato a questo programma, l'icona, voi potrebbe anche non cambiare. E se andiamo a vedere appunto l'estensione del file, come vedete mi va che è ISO, ok? Perfetto. Quindi, una volta che io ho l'ISO, posso tranquillamente metterlo sul mio Wii Backup Manager, oppure metterlo dentro la chiavetta e funzionerà tranquillamente su Wii, ok? Oppure con Wii U, va bene? Niente, questo era un piccolo video di come trasformare appunto da VUX a VUD e da VUD a ISO, ok? Ora nel prossimo tutorial vi spiego come mettere questo file installabile. Ragazzi, vi ricordo di seguirci sui nostri social, mi raccomando venite sul nostro canale Telegram, dove troverete tutte le sezioni, dove avete anche il supporto dagli altri utenti e non dimenticatevi di iscrivervi al canale. Un abbraccio dai Gamer56K, ciao!